Sindaco Fagnelli, allora il Pescara a Pizzoferrato per voi è un sogno che diventa realtà? Sì, veramente non ci sono parole per descriverla, questo per noi è un evento, un evento bellissimo che non è solo sportivo, come dire, noi chiaramente ci teniamo a ringraziare la società che ci ha, come dire, poi scelta, ci ha fatto questo bellissimo omaggio e io mi auguro che io e con tutta la mia comunità, tutta la comunità pizzoferratese, saremo in grado di ricambiare questo bellissimo momento che ci hanno regalato il Pescara. Diceva l'amministratore delegato di Annascoli che avete pressato a dir poco la società bianca azzurra per avere il Pescara in alto sangue, alla fine questo pressing ha avuto gli effetti sperati. Ma sì, voglio dire, non è solo, Pizzoferrato noi abbiamo avuto un turismo di tipo legato alle famiglie per via di Valle del Sole, sono 1600 unità abitative, quindi un tipo di turismo di un certo segmento. Successivamente abbiamo fatto un passaggio su quel cosiddetto turismo naturalistico perché Parco Nazionale della Maiella, però crediamo, proprio per la vocazione anche allo sport che ha pizzoferrato, che ha dato i Natali a ben quattro campioni del mondo e quindi uno persino americano, insomma di grande successo. Pensavamo che la vocazione sportiva potesse in qualche modo esaltarlo meglio. Tra l'altro c'è stata questa partnership che avete creato con la Sangritana per portare tifosi del Pescara a Pizzoferrato. Sì, noi abbiamo sempre detto che l'Abruzzo è una città diffusa, in fondo siamo un milione e 300 mila persone, Pizzoferrato e Pescara sembrano lontanissime, in realtà non è così, noi potremmo essere un momento del Pescara, di Pescara. Io chiedo scusa anche di quel piccolo prezzo contenuto che abbiamo fatto, ma è compreso pranzo, è compreso tutto, pur affinché insomma facciamo trovare bene... Diciamolo il prezzo. 15 euro, tutto compreso, ma voglio dire, spero che non sia una difficoltà perché per nessuno, il momento è particolare per tutti e siamo ben coscienti.